45 minuti di fuoco nel freddo del pala del Mauro. La Siligas Avellino supera la Dolomiti Energia Trento dopo un overtime con il finale di 79-69. Marti, Liunen e Adonis e Thomas segnano da oltre l'arco con la risposta a bianconera firmata da Crafter Lighty. Piccoli strappi con Trento che si regala il più 5 al decimo con il 7-0 finalizzato da Filippo Baldirossi. Avellino prova a scuotersi nella seconda frazione ma è rimpallata nei tentativi di sorpasso. Ragland non è il classico leader offensivo ed è solo meno 2 al ventesimo. In abbio di ripresa la schiacciata di Liunen carica il roster irpino sulla sigla di Fesenko e più 4 Avellino ma la parità è garantita dall'affondata di Gomez. Si susseguono sorpassi con minimo scarto per la conferma Aquila al trentesimo sul 44-45. A cavallo tra terzo e ultimo periodo le due schiacciate di Marco Cusin sembrano garantire inerzia ai lupi ma in un Amen è nuovo 7-0 Trento con Moraschini protagonista. Avellino esce da una situazione complicata con il gioco da 4 punti firmata da Retino Bashoan. Le bombe di Moraschini e Baldirossi fanno vacillare i bianco-verdi al trentacinquesimo per il meno 7. Baldirossi e Kraft sembrano lanciare la Dolomiti Energia verso il successo ma Avellino è infinita. Prima l'appoggio di Ragland poi la tripla di Marquise Green per il meno 1. Gomez perde la sfera e sul fallo conquistato nel pitturato Cusin fa 1 su 2 ed è parità al quarantesimo. Tutto in gioco nell'overtime aperto da Kraft con una tripla beffarda. La scandone guida il supplementare con un green spettacolare. Altre due triple per il successo con il risultato di 79-69 che vale il riaggancio su Venezia al secondo posto e la terza casella Final 8. A febbraio in Coppa Italia ai quarti sarà Avellino Sassari.